Ciao a tutti, oggi è venerdì, venerdì di quaresima. Oggi la passione di Cristo e la croce di Cristo è davanti ai nostri occhi. È qui il crocifisso. Che cosa ci dice il crocifisso? Amore. E amore chiama amore. Sapete cosa faremo oggi tutti? Un gesto d'amore. Scegli tu, scegli un pensiero, una parola, un'azione che sia un atto d'amore incredibile verso Cristo crocifisso. Se lui ci ha amato tanto si esige anche un po' d'amore da parte nostra. È possibile? Vedremo questa sera se siamo stati capaci di rispondere a tanto amore con un pur piccolo ma comunque amore nostro. Ciao a tutti.